Sono Emilio Frattaroli, direttore di AV Magazine, AVMagazine.it, qui per il Tupau abbiamo organizzato per il terzo anno consecutivo un'area che si chiama V-Experience, che racchiude alcuni espositori che presentano prodotti soprattutto nel settore video. Abbiamo due salette con videoproiettori 4K, Sony e JVC, in cui si possono vedere contenuti ad alta risoluzione anche 4K oppure anche 3D. Poi c'è un'area dedicata a Panasonic con Smart Display, sia LCD che plasma, molto utile sia per confrontare la diversa resa di plasma e LCD su contenuti di alta definizione anche per vedere l'integrazione con smartphone e con la rete. Poi c'è un'area dedicata ad Asus, che è soprattutto focalizzata su gaming, anche 3D, un'esperienza molto interessante. E poi c'è anche Sky, che è l'unico fornitore importante in Italia sia per tutto l'ordinata definizione che anche per il 3D. Questo è l'aspetto tecnico, è anche organizzativo il fatto di mettere d'accordo i miei espositori. E poi all'interno di quest'area facciamo anche un po' di seminari e workshop o su vari prodotti. Per esempio abbiamo, siamo in attesa della Liberatoria, insomma dovremmo far vedere dei trailer in 4K che ci sono stati concessi da Warner, sui film sia su Batman, l'ultimo, il Cavaliere Oscuro e il ritorno, e anche su Skyfall, soprattutto due film distribuiti in 4K che saranno il primo già nelle sale, Skyfall arriverà a fine ottobre, prima di domenica. Li faremo vedere anche in post-produzione, li apriremo con After Effects per vedere come funzionano i programmi, qual è la risoluzione reale, e con il Sony, con il proiettore Sony, il WW1000S, li proietteremo anche in 4K, meglio che al cinema.